Un cordiale saluto dalla redazione di Florence TV in studio, Marco Gargini. Infibili per lavori tra la Strassigna e Ginestra, Fiorentina un chilometro di coda verso Livorno e un chilometro di coda verso Firenze. Code in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. In A1 verso Bologna per lavori corsie interne chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e c'è un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sempre verso Bologna code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. In A12 incidente al chilometro 203 e 200 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Genova. In A15 code tra Ulla e Berceto in direzione Parma e tra Ulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!